Luigi Sepe, inizia la volatona finale, si inizia con una trasferta in una terra a Teccara, in Campania, a Sorrento per la precisione. Sì, una trasferta molto impegnativa, dove ci giochiamo un gran pezzo di stagione, perché sappiamo che se dovessimo portare a casa i tre punti, sono tre punti che valgono molto di più, visto che ci sono altri scondi diretti e visto che dopo abbiamo la possibilità di incontrare il Vieriggi in casa. Ci sono due partite in casa, da non fallire, come hai detto te giustamente, tre trasferte, bisogna andare per trovare qualche punto pesante, però con l'occhio magari anche la classifica, quindi solo per vincere o anche magari per muoverle e basta? No, sono tre trasferte dove dobbiamo guardarne uno per volta, questa qua di domenica secondo me è molto difficile, perché loro sono una squadra che puntano alla salvezza e noi siamo una squadra dove dobbiamo andare lì a cercare di fare punti, punti non vuol dire andare a pareggiare, ma cercare di vincere la partita. Si giocherà su un campo sintetico, non di ultimissima generazione, per i portieri un problema in più? No, anche per i giocatori, visto che lo conosco benissimo e posso dire che è un campaccio, perché dall'erba tutta consumata è difficile da giocare, ma ciò sarà difficile per noi e sarà difficile anche per loro.